ciao allora oggi vi voglio parlare di questa mascara della essence questo è il what the fake volumizing e light in mascara quindi è volumizzante vediamo se riesco a trovare anche altre indicazioni volumizzante e allungante ok allora la confezione è un 16 ml e il prezzo è di 4 euro e 49 allora dice di avere delle fibre all'interno per questo effetto allungante ma noi intanto guardiamo la confezione con ciccione bellina con l'applicatore e l'applicatore è fatto così ok allora che vi faccio vedere bene la confezione che questa nel caso non la conosceste ma è davvero un mascara abbastanza chiacchierato allora dunque cosa devo dirvi prima di tutto intanto che vi ho fatto come sempre è l'applicazione quindi la differenza tra un occhio e l'altro e poi il test e prova su strada per tutto il giorno ma come noterete da subito non è un mascara di quelli della essence che una passata wow questo va lavorato va lavorato davvero quindi poco prodotto da lavorare bene al zig zag e tirare su tre o quattro passate perché si nota perché è davvero delicato ma lo vedrete anche comunque nel test una volta fatte queste tre quattro passate dipende dall effetto che volete dargli si nota e si nota anche l'effetto allungante è dato da queste fibre che comunque è what the fake quindi effetto ciglia finte ciglia finte molto naturali perché molto delicato però l'effetto c'è ha un effetto allungante l'effetto volumizzante leggermente e si nota la differenza e c'è certo non è un'unica mascara da usare la mattina applicare per andare a lavorare ci vuole da lavorare va lavorato va applicato con attenzione ci sono dei mascara della essence che trovo che la prima passata sono quei neri intenso che subito notano la differenza questo ci vuole un attimo più di attenzione ma un attimo vuol dire un minuto due non di più ecco per non andare a macchiarsi la palpebra o fare i pasticci o pastrocchi comunque adesso io vi lascio all'applicazione e poi al test su strada così vedete come si comporta e di cosa sto parlando allora oggi ho fatto un trucco super leggero sugli occhi per farvi vedere bene come si comporta ok è questo qui e dobbiamo lavorarlo davvero bene grazie a tutti grazie a tutti adesso faccio un altro fuori camera e vediamo ok allora questo è risultato su tutte e due le ciglia sì è bello lungo non è tanto nero sporca un po la palpebra ma fa un po l'effetto eyeliner anche se non l'abbiamo ci può stare questo è l'effetto adesso lo teniamo su tutto il giorno e vediamo stasera come si comporta ed eccoci qua allora siamo arrivate a sera siamo arrivati a sera un po con la luce e vediamo sono rimaste curvate curvate si vede ma scara che si vede c'è non ha fatto non ha fatto grumi non si è perso non si sgretola adesso devo andare a fare la doccia quindi testiamo anche se resiste un attimino non mi laverò completamente il viso però a vedere se qualche goccia d'acqua regge allora rieccoci ultimo aggiornamento ho fatto doccia e capelli effettivamente guardando un pochino ha macchiato un pochino ha sbordato ma considerate che non è waterproof quindi se prendete qualche goccia di pioggia non succede niente e ora adesso direi di andarlo a rimuovere così lo testiamo proprio del tutto allora dischetto io uso un bifasico proviamo allora io solitamente non quando ho il mascara vado a struccare tutto il trucco con con un olio o un burro ma comunque anche col bifasico si è rimosso completamente quindi promosso allora eccoci dunque avete visto che una volta applicato si comporta bene quindi lasciare avete visto l'effetto ciglia allungate che davvero mi piace tanto un effetto ciglia finte molto delicato effettivamente e si nota la differenza da con a senza mascara anche da lontano si vede questo effetto incurvato allungato e durante il giorno non va a cadere un momento intendevo che non è un effetto che va a scemare durante il giorno quindi c'è davvero fino a sera cosa importanti che devo dirvi sicuramente è che non è non crea grumi non crea pezzettini che si vanno a depositare sotto quindi fantastico per questo non secca le ciglia non le fa strappare e non le appiccica una volta applicato davvero dura fino a sera quindi fantastico allora sì altra cosa sugli occhi soprattutto che tende a lacrimare molto non si scioglie e non crea loni quindi si comporta davvero bene anche se non è un mascara waterproof e e si rimuove facilmente con un qualunque struccante o quegli struccanti oleosi o bifasici quelli appositi per il trucco ed è il trucco waterproof anche se non è waterproof oppure per trucco occhi insomma non andate con la comicellare a cercare di scioglierlo perché ci mettete tanto e prima o poi ci riuscirete però ci mettete tanto storfinate le ciglia e tendete anche a farle spezzare quindi uno struccante oleoso e viene via facilmente io uso sempre quelli a base oleosa e davvero funziona perfettamente e niente cosa vi posso dire è un mascara che va lavorato e non è di quelli da applicare alla mattina una passata prima di uscire alla veloce però e mantiene le promesse fa il suo effetto l'effetto volumizzante l'ho visto leggermente ho visto di più l'effetto allungante l'effetto allungante grazie alle fibre si vede davvero tanto e è bello mi piace mi è piaciuto e con quegli accorgimenti che ho detto è sicuramente un buon mascara che vi consiglio anche se ci sono degli altri della SS che hanno un nero intenso fin dalla prima passata dipende dai gusti come sempre allora io voglio sapere qui sotto nei commenti se l'avete provato come siete trovate o nel caso se vi ho fatto scoprire un prodotto che siete incuriosite da provare o se non sta per voi io spero mi sia utile e come sempre ci vediamo alla prossima ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estrargo ogni mese ciao ciao